L'andamento del mercato degli integratori alimentari non solo in Italia, oggi parlavo con un collega di una nostra filiale in Francia, dove anche per esempio in Francia, ma direi un po' generalmente in tutta Europa, è un mercato che è ancora molto sulla cresta dell'onda e continua ad avere un trend di crescita che seppur inferiore a quello di 12 anni fa è però molto costante, quindi questo mi fa immaginare che sia un mercato dove il consumatore ormai è un consumatore consolidato, è un consumatore che probabilmente negli anni ha maturato sempre più fiducia verso l'utilizzo di questi prodotti, perché altrimenti non riuscirei a spiegarmi una crescita che se magari più contenuta rispetto a quello che ripeto eravamo abituati al passato è comunque costante. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che al di là di tutte quelle che possono essere le polemiche, che possono essere gli atteggiamenti di alcuni modelli di pensiero rispetto ad altri, io non posso immaginare che un consumatore continui a comprare un prodotto se non ne percepisce giovamento. Quindi sono quasi anche in maniera un po' polemica a dire che il consumatore è riuscito a mettere a punto un metodo per verificare l'effetto fisiologico di questi prodotti, mentre la scienza è forse ancora un po' indietro. Mi spiego meglio. Direi che confrontare il mondo degli integratori al mondo del farmaco, seppur i prodotti si vendono con delle forme che sono molto simili e anche negli stessi canali di vendita, forse non è la cosa più giusta, perché non dimentichiamoci che gli integratori alimentari, noi come associazione lo stiamo ormai dicendo da tantissimi anni, non servono a curare le malattie. Possono avere un effetto coadjuvante, leggi per esempio l'utilizzo di fermenti lattici o di probiotici come li vogliamo chiamare durante una terapia antibiotica, quello è un effetto coadjuvante chiaramente, ma diciamo che la loro principale funzione è quella di avere un effetto metabolico per mantenere in efficienza il nostro sistema fisiologico, il che vuol dire mantenere sane le persone che stanno già bene. Ecco, è questo che noi dovremmo capire tutti, cioè il consumatore oggi è consapevole di questo, il consumatore oggi prende con frequenza e anche con metodo un integratore alimentare perché è convinto che questo in qualche modo gli faccia mantenere con maggior facilità lo stato di salute. Probabilmente in tutto questo un evento nefasto, un evento che con rispetto di tutte le persone che sono mancate, cioè il Covid, ha creato un modello di pensiero nell'utilizzatore che forse prima era più una moda, oggi è quasi diventato una necessità. Allora, l'informazione deve essere trasparente e veritiera, non possiamo avere etichette scritte in un modo, Deppian scritti in un altro modo e chi più ne ha più ne metta. Io direi che però c'è un punto focale. Questo settore è un settore che necessita di innovare. L'innovazione passa oggi, anzi, apro una parentesi, ed è un settore dove il claim salutistico è ottenuto per decreto legge, nel senso che esiste una lista di claim associati a dei nutrienti che possono essere utilizzati. Io penso che il mondo industriale abbia la necessità e la voglia anche di innovare, ma a questo punto c'è un grande problema perché l'innovazione oggi passa attraverso una pratica che si chiama Nobel Food che non è assolutamente chiara nel suo percorso e quindi rischia spesso che l'azienda faccia degli investimenti in tempo, uomini e danaro, per poi ritrovarsi un giudizio da parte di un ente che spesso non è uniforme perché a seconda del professionista che mette il giudizio otteniamo delle risposte diverse. Io penso quindi che il mondo industriale debba assolutamente mettere l'accento su questo aspetto perché è diritto del mondo industriale stabilire una modalità per la quale un Nobel Food viene riconosciuto tale attraverso un percorso che deve essere certo, che deve avere evidentemente dei passaggi obbligati, ma che non può essere frutto di opinioni personali. Detto questo aggiungo anche che c'è poi un altro tema. Spesso i protocolli che vogliono dimostrare l'effetto metabolico di un nutriente sono ancora troppo legati agli schemi del mondo farmaceutico, ma è sbagliato perché l'effetto farmacologico misura delle differenze di parametri che sono spesso misurabili, mi permetta di usare un termine non appropriato, con il metro. L'effetto metabolico invece si misura con un calibro. Allora bisogna avere il coraggio anche qui di aprire la possibilità che queste misurazioni vengano fatte con tecnologie che spesso il mondo della scienza ancora non riconosce, ma che in realtà sono moderne e il mondo sta andando in quella direzione. Quindi c'è veramente un problema di sistema, di modalità, di processo e c'è anche un sistema, secondo me c'è anche un problema di metodo. Ecco, questo come associazione cercheremo di portarlo avanti perché ritengo sia la svolta epocale che farà in modo che le imprese possano immettere in commercio prodotti con nutriente sempre più innovativi e che il consumatore ne possa trarre maggior beneficio. Non dimentichiamo che in un mondo ideale dove il numero di malati diminuisce, questo vuol dire non perché li abbiamo curati con gli integratori, si va di bene, ma perché l'integratore ha permesso a più persone di non oltrepassare la soglia dello stato di fisiologia allo stato di malattia. Bene, in un mondo di questo tipo noi avremo probabilmente meno malati, avremo meno spese da parte degli stati e potremo concentrare ancora di più gli investimenti dei danari per curare le malattie più rare o le malattie più difficili. Ecco, questa è forse l'ambizione che l'integrazione alimentare si pone. Questa operazione è stata un'operazione di successo perché oggi integratori e salute conta 200 aziende associate, il che vuol dire che la gran parte delle imprese che erano associate in Federal Salus sono passate in integratori e salute. Perché è nata integratori e salute? Beh, allora, perché un settore si difende con una voce univoca, un settore si difende con un'associazione che abbia la capacità di tessere relazioni come modalità normale della vita associativa e Confindustria, per la quale in alcuni casi io anche esprimo delle critiche, ma è normale perché le critiche devono essere costruttive, ma Confindustria è l'unico contenitore per il mondo industriale che permette di avere disponibili subito relazioni. Relazioni chiaramente col mondo delle istituzioni, col mondo politico. E quindi abbiamo fatto questa unica associazione che oggi unisce forse le due caratteristiche principali delle associazioni da cui è nata. Da un lato la vivacità culturale che la Federal Salus aveva sempre dimostrato, ed oggi la ritroviamo all'interno di integratori e salute, abbiamo un gruppo tecnico che sta lavorando su tantissimi temi. Voglio ricordare, per esempio, che abbiamo varato delle norme ISO nuove, proprio cucite sul mondo dell'integrazione alimentare. Stiamo lavorando su tutta una serie di aspetti tecnici, uno su tutti il modo con cui si misura la disgregazione di una compressa di un integratore, perché, apro una parentesi, noi siamo stati attaccati come mondo in maniera, secondo me, sbagliata, perché una compressa di un integratore che mediamente contiene il 70% di nutrienti e il 30% di eccipienti. Non può essere paragonata a dei metodi che si usano per i farmaci, dove abbiamo il 5% di sostanza farmacologicamente attiva e il 95% di eccipienti. In più, per un farmaco abbiamo la necessità di assorbimenti, magari molto rapidi, per un nutriente. Lui verrà assorbito secondo i tempi e la logica che ha sempre avuto il nutriente. Allora, bisogna veramente sempre di più separare questi due mondi. Ma tornando alla sua domanda di quali sono poi gli obiettivi di questa associazione, da uno glielo ho appena descritto. L'altro è quello di sensibilizzare sempre di più il mondo politico e il mondo delle istituzioni su quelle che sono le tematiche di questo settore. Non dimentichiamoci che per l'Italia è un settore che esporta anche molto. Non dimentichiamoci che le aziende che producono in Italia sono portate ad esempio negli altri paesi europei e mi lasci esprimere un'esperienza personale. Io negli ultimi due anni ho visitato molte aziende in Europa e anche oltreoceano e devo dire che il livello delle aziende italiane è nettamente superiore. Quindi noi non ci poniamo l'obiettivo di difendere questo settore, noi ci poniamo l'obiettivo invece di fare in modo che questo settore venga sempre più riconosciuto, non come il parente povero del farmaco, ma di un settore completamente a sé stante che ha una funzione diversa da quella del mondo del farmaco e che ha pari dignità. Questo è quello che vogliamo fare e stiamo lavorando molto per arrivare a questi obiettivi. personale opinione che però ho condiviso con molti colleghi all'interno dell'associazione. Io penso che questo settore per crescere ha necessità di alzare l'asticella da un punto di vista proprio tecnico scientifico dei prodotti che fa e ha anche la necessità di poter innovare al di fuori di regole scritte dai burocrati. Mi spiego un po' meglio perché non vorrei essere frainteso. Non è che l'innovazione deve essere libera, l'innovazione deve essere regolamentata, ma le imprese devono poter fare ricerca e sviluppo coinvolgendo quindi poi università, enti scientifici e quant'altro attraverso dei metodi che non sono propri a quelli usati per i farmaci e soprattutto con un processo molto chiaro e definito in modo che ogni impresa quando comincia un processo sa che quello che fa può avere anche una certa percentuale di insuccessi che evidentemente sta nella normale esecuzione del diritto di impresa ma che se le cose le fa bene e in modo giusto evidentemente non c'è la discrezionalità ma c'è solo un processo definito. Questo penso siano i due punti fondamentali perché altrimenti rischieremo di continuare a fare prodotti dove ricercheremo i nutrienti più per il fatto che siano stati omologati da qualcun altro invece di cercare di metterli assieme per un libero pensiero che parte proprio dalla ricerca. La ricerca è innovazione, la ricerca è anche rischio, la ricerca però spesso porta a fare in modo che il prodotto finale possa dare al consumatore degli ulteriori vantaggi, sempre in termini mantenendo quello che è il punto fondamentale di questi prodotti che prima di tutto viene la sicurezza. Su questo non vi è dubbio. Abbiamo lanciato un'iniziativa per portare sia dei parlamentari italiani europei che dei parlamentari italiani all'interno delle aziende di produzione degli integratori alimentari proprio perché vedano e capiscano qual è il livello degli stabilimenti. Non dimentichiamoci che mediamente il mondo degli integratori è un mondo molto al femminile quindi l'occupazione femminile è prevalente e anche questa è una cosa che in qualche modo dobbiamo far raggiungere ai ai nostri politici. Poi nel nostro programma di lavoro c'è quello di evidentemente confrontarci con tutti gli associati sulle varie tematiche ma soprattutto stiamo dando molto spazio a questo gruppo di lavoro tecnico che sta veramente ogni mese affrontando tematiche di cambiamento e di proposta per fare in modo che tecnicamente questi prodotti usino delle regole, dei metodi che siano più consoni proprio alla tipologia dei prodotti che facciamo e non vengano così presi da modelli che spesso poi non si addicono alla tipologia del prodotto che facciamo. È chiaro che l'altra cosa che l'associazione si pone come obiettivo è quello di continuare a fare sempre più cultura su questi prodotti soprattutto a tutela del consumatore ma di innalzare anche la cultura delle imprese nel fare in modo che capiscano che un integratore alimentare è comunque un prodotto che le persone assumono e che quindi deve avere ai massimi livelli di sicurezza e anche di tecnologia produttiva.